eccomi qua sono tornato dopo una breve pausa estiva sono alle prese con l'ennesima verticale si tratta della smart tech j poll modello 27 vj prima di procedere con l'unboxing vorrei ringraziare vittorio de santis della titolare della vds service che ha gentilmente offerto l'antenna per il test vi chiedo di sopportare il canale quindi iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessun video e nessun aggiornamento procediamo con l'unboxing l'antenna viene consegnata così imballata con tutta la minuteria assicurata all'interno del pacco il manuale è avvolto sempre all'antenna stessa in modo molto pratico ci sono dei segni che serviranno sicuramente per il montaggio e procediamo gli elementi sono già posizionati all'interno telescopicamente dove devono essere montati quindi presumo che il montaggio sia una cosa molto molto semplice sono presenti all'interno due cavallotti di fissaggio il punto con il pl per collegare al contatto caldo delle fascette e le due staffe che tengono uniti ed equidistanti i due elementi da notare che una isolata una conduttiva è presente anche il manuale cartaceo che da all'interno le specifiche dell'antenna e quelli che sono le istruzioni per il montaggio da domani inizierà il montaggio mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina così non perderete nessun video dei prossimi e mi raccomando state sintonizzate perché arriveranno tante tante nuove novità